Nei server è presente una scheda di rete management, ok? Solitamente nei server sia desktop che REC sono presenti quattro schede di rete e una scheda di rete dedicata a management. Serve a gestire e monitorare il server anche da remoto volendo. Possiamo monitorare le temperature, possiamo vedere cosa sta facendo, possiamo intervenire nel BIOS, proprio come se fossimo lì davanti con tastiera e mouse. Sono solitamente sconosciute, le vedo pochissime volte raramente collegate, ma sono fondamentali. Sono fondamentali per lavorare nel server anche in caso in cui non si riesca magari ad accedere alla macchina, eccetera, eccetera. Voglio mostrarvi in questo video proprio il funzionamento e la configurazione di una scheda di rete. Nello specifico andremo a vedere una scheda HP e vi mostro come funziona. Una volta collegata in rete la nostra HP Hilo, come vi dicevo prima, le verrà assegnato automaticamente un indirizzo in DHCP. Se volete sapere l'indirizzo o riavviate il server e ve lo segnerà in fase di boot, oppure per trovarla in rete dovete scaricare un software che si chiama HP Hilo CMD Let for Windows PowerShell. Eccola qua, download. Ora lo andiamo ad installare direttamente dal sito HP. Clicchiamo scarica. Ecco qua. Ok, una volta che è stato scompattato andiamo nella nostra cartella CHP Hilo CMD Let e andiamo a installare questo pacchetto. Una volta scaricato e quindi installato il pacchetto, apriamo una console di Windows PowerShell, andiamo a scrivere find-hp Hilo, esatto. Scriviamo meno range, andiamo a specificare la rete della nostra mask. Uno, due, cinque, quattro nel mio caso. E mi tirerà fuori l'elenco delle schede di rete Hilo che va a rilevare nella vostra rete LAN. E come vedete ha tirato fuori l'IP della nostra Hilo. In questo caso ha IP 249, andiamo a quell'indirizzo e vediamo che possiamo fare l'accesso. Il certificato non è sicuro, procedete tranquillamente. Andiamo a effettuare il login. Nomo utente e password standard li trovate nel caso di HP, ad esempio, in un'etichetta proprio fisicamente presente nel server. Solitamente è una linguetta che si sfila dal server e sopra c'è riportato un omotente e password di default. Li andiamo a mettere. Praticamente qui abbiamo nella scrizione principale diverse informazioni, no? Il nome del server, il modello del server, seriale e quant'altro. La versione dei firmware, eccetera, eccetera. E lo stato in generale del nostro server. Se andiamo a sfogliare le varie tab dell'HP Hilo, andremo a vedere che abbiamo la possibilità, innanzitutto, di verificare lo stato generale di sicurezza. Ci vengono dati degli alert. Vedete, mi dice che sto utilizzando il certificato SSL di default, che io in questo caso ho ignorato perché non è un problema di sicurezza, diciamo, vero e proprio. Abbiamo, diciamo, diverse schermate, ma sicuramente una delle più significative è proprio la Hilo Event Log. Qui praticamente mi viene riportato eventuali login eseguiti appunto nella Hilo, se il server essere avviato per qualche motivo, se ci sono, diciamo, dei problemi nella macchina. Quindi se essere avviato non volontariamente, eccetera, eccetera. Quindi troveremo gli alert proprio in rosso. Se per esempio state richiedendo la garanzia, non so, immagino, boh, di un hard disk, no? Vi chiedete la garanzia di un disco, sicuramente HP vi chiederà l'Active Health System Log. Lo potete da questa pagina scaricare da data a data e per poi inviarlo all'assistenza. Avete, vi dicevo, diverse tab. Potete vedere l'informazione del sistema operativo. Processori installati. In questo caso ne sono due, quindi vedo entrambi i processori, speed, eccetera. I miei banchi di memoria installati, in questo caso ho due CPU con 128GB di RAM l'uno, quindi 256GB di RAM. Mi fa vedere ogni banco da quant'è, la frequenza, se è in buono stato, eccetera. Se ci sono problemi comunque lo vedo qua. La rete, storage e quant'altro. In questo caso, per esempio, abbiamo solo due dischi RAID 1. Vedete, mi dice che il disco è ok, la capacità, il tipo di disco, eccetera, eccetera. Nella sezione invece firmware troviamo tutti i firmware del dispositivo. Li possiamo andare addirittura a uploadare, quindi possiamo tranquillamente andare a uploadare firmware, aggiornarli direttamente da qui. Power e thermal. Da qui possiamo andare a specificare il comportamento del nostro server in caso di mancata alimentazione. Per esempio, possiamo andare a dire che si deve automaticamente riaccendere. Lo potete ovviamente spegnere, riaccendere, risettare, riavviare male, eccetera, eccetera. E potete, da questa console, la cosa più comoda in assoluto è la gestione remota. Se clicchiamo qui, il remote console, possiamo andare ad interagire con il nostro server, proprio fisicamente, come se fossimo lì davanti con una tastiera, un mouse e un monitor, e andare a interagire col server. Quindi io solitamente che faccio? Non collego mai neanche un monitor dentro l'armadio REC nel caso in cui il server sia REC, perché tramite la ILO posso tranquillamente gestirlo. Se io vado, per esempio, a cliccare HTML e sono solo diverse modalità per andarlo ad aprire, io vedo essenzialmente, vedete, come se io fossi proprio davanti allo schermo. Posso andare a fare control al cangio e fare il login. Posso andare a linkare eventuali CD direttamente da ISO. Arrivo un server nuovo. Installo i dischi, installo la memoria, installo eventuali CPU, controller ride, eccetera, eccetera. Poi lo accendo, collego la ILO, prendo lo stick, vado via, vado sul mio classico PC d'ufficio, faccio una scansione in rete, rilevo la ILO come abbiamo fatto ora, mi logo, entro qui dentro, vado direttamente a caricare la mia ISO di Windows Server, nel caso in cui sia Windows o Linux o quello che sia, vado a caricarmi la mia ISO e procedo all'installazione di sistema operativo direttamente da qui. Non ha senso che mi metto lì a perdere tempo, a collegare i monitor, a aspettare che finisca l'installazione, andare lì ogni tanto a verificare se ha fatto o meno, eccetera, eccetera. Ce lo posso tranquillamente essere seduto al mio computer, fare quello che devo fare e avere nell'altro monitor magari la ILO è aperta mentre installa un sistema operativo. Per avere questa Remote Console, attenzione, non è gratuita, ma vi dico che se voi non registrate questa console, non l'acquistate, la potete utilizzare per un tempo limite, quindi dopo un po' vi disconnetterà, vi dirà attenzione, state utilizzando, non avete la licenza, vi si chiude la finestra ma potete tranquillamente riaprirla subito facendo così. Ok, non è comodissimo ma vi dirò di più. In fase di installazione del server si trova tranquillamente online la trial che dura 30 giorni per cui la mettete dentro il seriale durante in fase di installazione del server in ufficio e voi procedete tranquillamente a fare tutte le configurazioni del BIOS, installare il sistema operativo, eccetera, eccetera, senza avere questa noia che vi esca, diciamo, che vi dica che non avete la licenza. Quindi caricate la trial e andate avanti. Poi la riutilizzerete solo nel caso in cui il cliente vi chiami a qualche problema grave per cui il server magari forse neanche si è acceso, vi collegate su un computer del cliente, quindi non dovete neanche andare là fisicamente o dirgli vai davanti al monitor, collegami, eccetera. Tutti colleghi su un cliente, vai a ricercare la ILO o se gli ha dato un IP fisso, vai direttamente nell'IP della ILO, vai a vedere cosa è successo. Se il server magari non è partito lo troverete nel BIOS e potrete tranquillamente andare a interagire col server. Praticamente per caricare la licenza andate in administrator, licensing e andate a caricare. Vedete qua potete caricare la trial, io in questo caso ho una licenza registrata, quindi ho il seriale inserito. Abbiamo la gestione degli utenti, se vogliamo creare diversi utenti per effettuare il login a questa interfaccia e possiamo andare a vedere, non so, ad esempio, ventole, temperature del server. Vedete quanto è fatto bene, cioè proprio l'interfaccia è veramente fantastica, io ve la adoro. Che dire, è un'interfaccia da provare, io ho visto ad esempio le console di altri server, ma vi posso dire che per esempio IBM Lenovo non vi permette di fare la remote console se non avete minimamente la licenza, quindi questa cosa secondo me gioca molto 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 a favore di HP. Detto questo, provatela, andatela a spulciare, ci sono un miliardo di funzionalità, però ecco, le più interessanti ve l'ho dette in questo video. Fatemi sapere se la conoscevate, se vi è piaciuto, se sapevate che potevate utilizzare questa interfaccia per fare tutti questi controlli o per addirittura utilizzarla come monitor. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto iscriviti al canale, metti un mi piace e attiva la campanella. Ciao, alla prossima!